Cari concistatini, buonasera. Come vi avevo comunicato nel pomeriggio, appena mi venivano comunicati i risultati del Covid-19 sulla mia persona, vi avrei informato immediatamente. E così è. Poco fa sono stato contattato dall'ASL e per cui anche io sono positivo al Covid-19. Ovviamente vi dico subito che fortunatamente mi sento bene fisicamente e quindi affronterò con grande tranquillità questa ennesima esperienza. Ho già disposto la convocazione del COC, i quali sono riuniti in questo momento tutta la struttura comunale, per domani abbiamo inteso chiudere il comune per due giorni, abbiamo disposto la sanificazione e uno screening su tutti i dipendenti, a seguire tutti gli amministratori e a seguire anche la mia compaggine elettorale. Quindi massima sicurezza per tutti, anche dopo prima la salute e poi tutto il resto. Vi comunico anche che ho disposto la sospensione da parte della mia squadra della campagna elettorale, faremo prima tutti gli analisi, uno screening generale e poi un'elementualità stabilita. Teniamo le modalità per ripartire in questa che potrebbe essere un momento anche di intervento con i cittadini. Al momento sospendiamo questa attività, vediamo lo stato di salute di ognuno di noi e poi ovviamente ci aggiorneremo. Vi ringrazio ancora a tutti voi per l'affetto, ci sentiremo nei prossimi giorni e io vi informerò sicuramente sulle mie condizioni fisiche, sulle condizioni fisiche della vice sindaca Veronica e ovviamente su tutto quello che metteremo in campo per fare in modo che la comunità sia messa in sicurezza. Grazie a tutti voi e buona serata.